Allora, adesso lasciatemi dire che è una domanda misogia spontanea Ma Kim Min Gia è? No, allora, mi fa ridere perché lo so Kim Min Gia è Però visto che si chiama Kim Min Gia è Kim Min Gia è, Kim Min Gia è, Kim Min Gia è Insomma, volevo fare la battuta Ridete, fatemi felice, proprio come i matti, no? E poi partiamo con il video Perché il Napoli, dal giorno alla notte Non è vero, stava trattato a 12 anni Ha preso il sostituto di Calidù Kulibaly Ha preso Kim Min Gia, che per comodità chiameremo Kim Perché il Napoli quest'anno tra Kevdar Ascelia e Kim Min Gia Fa praticamente la squadra degli impronunciabili Manco quando c'erano Papastadopoulos, Sokratis e Blachikoski Comunque, a parte gli scherzi, il Napoli Non voglio essere cattivo perché io credo Fermamente credo Che Kim possa diventare il nuovo Kulibaly Nel senso, io credo fermamente Che Kim possa Come posso dire Possa In modo Fare un upgrade A tal punto da diventare uno dei migliori centrali Del nostro campionato Perché io lo conosco da una vita, ragazzi Questo tipo, io lo conosco tipo da 5 anni Va in giro da quando c'ha 20 anni E se ne parla sempre molto molto bene Quindi io ero tranquillissimo Ed ero prontissimo A capire dove sarebbe andato Perché ero pronto a vedere un suo upgrade totale Però lasciatemi dire Che ad oggi Carte alla mano E io credo che il Napoli si stia ridimensionando Tanto stia facendo un ridimensionamento Da Europa League Poi magari sbaglierò Perché ci sta che io sbagli Sbaglierò Come dice Cassano Amen Può capitare Però il Napoli per me sta facendo un grande Grave Grande grave ridimensionamento D'Europa League Cioè basti pensare che il Napoli ha perso Koulibaly Ha perso Insigne Ha perso Mertens Che al di là di quanto Tecnicamente Possano dare Perché poi gli danno una gran cosa A livello tecnico Si parla anche di un fattore Mentale Perché quando io Gioco in difesa Mi giro E c'ho Koulibaly Io sto tranquillo Quando io gioco in difesa Mi giro E c'ho Kim Ad oggi Non sto tranquillo Ed è il discorso Che faceva Rachmani Quando parlava di Koulibaly Che diceva Koulibaly non si sostituisce Che da Koulibaly Ho imparato tutto Se oggi io sono quello che sono Lo devo a Koulibaly Ecco Con Kim Il discorso non si può fare E lo stesso faccio per Quarashelia Che da quando Insomma ha fatto amichevoli Segna Rutta de Collo Non fa altro che segna Però Quando tu sei Zieliski Magari dai la palla A Koulibaly Fa più gol di Insigne Però proprio a livello mentale Devi andare a riprendere la partita Guardi Insigne Ti basta uno sguardo Per capirvi E per dire Allora Famolo per sta gente Andiamo a riprendere la partita E a livello caratteriale A livello mentale Cambia tutto E invece il Napoli Per me si è ridimensionato È come se a un certo punto Avesse detto bene Leviamo i leader Dopo anni che il Napoli Non faceva mercato Non ha fatto come la Lazio Ecco per me la Lazio Ha fatto una rivoluzione Verso l'alto Perché ha preso Casale Ha preso Cancellieri Ha preso L'ottavo ridere Ma lì Marcos Antonio Carlos Augusto Non mi ricordo come si chiama Credo Marcos Antonio Ha preso Ha preso Romagnoli Cioè con la Lazio Ha fatto un mercato Intelligente Prima di tutto Intelligente Al rialzo Cioè per me Si è rinforzato enormemente Questo non è accaduto Secondo me Per il Napoli Il Napoli ha tolto I capisaldi Dopo anni che non faceva mercato E che si rinforzava solamente Puntellinando Dimostrando di essere una squadra solida Che puntasse sempre sugli stessi E ha preso giocatori molto più giovani E sulla carta In partenza Intendo Molto meno forti Perché Kim oggi non è Koulibaly Perché Quarashelya Oggi non è Non è Insigne E questo è E questo è Perché oggi Perché oggi tu hai perso anche Ospina E questo è Secondo me Poi vi ripeto Nessuno vieta Che Kim possa Diventare più forte Vi faccio un esempio Sette anni fa Mi avessero detto Quando il Napoli Due anni fa Quando il Napoli Ci aveva Manolas E Koulibaly Difensori Prima che iniziassero Perché poi Manolas ha fatto cagare Se ne andava e tutto quanto Però prima che iniziassero Se mi avessero detto Tra due anni Il Napoli non avrà Né Manolas Né Koulibaly Ma avrà Kim E Rachmani Io avrei detto Ma vi drogate E tuttora Ecco C'è un po' C'è un po' La sospensione Dell'incredulità Nel vedere la nuova stagione Del Napoli Però niente vieta Che Kim in un anno e mezzo Possa diventare come Koulibaly O comunque avvicinarsi Cioè avvicinarsi a Koulibaly Sarebbe comunque Tanta 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 roba Secondo me Viste le pretese Viste le premesse Scusatemi Anche perché Nessuno avrebbe mai immaginato Che Rachmani Avrebbe fatto meglio Di Manolas Soprattutto dopo l'ultima stagione Anzi dopo la prima stagione Di Rachmani A Napoli Dove sembrava Un ferro da stiro Dove i napoletani Non lo potrebbero Manco per sbaglio Nessuno vieta Che possa diventare più forte Di Koulibaly O avvicinarsi al Koulibaly Ma oggi non lo è Cioè per me Anche a livello mentale Avrebbe dovuto Forse De Laurenti Usare un po' più l'intelligenza Prova a prendere Dybala Non riesci a prenderlo Ci sta che tu non riesca a prenderlo Perché economicamente È un'operazione Per te magari Non sostenibile Considerando soprattutto Che tu hai perso Insigne Il tuo capitano Per non dargli un milione in più Quindi ci sta che per te Non sia un'operazione sostenibile Ma allora no Perdi Koulibaly Investi i soldi E prova a prendere Bremer Provaci Prova a prendere Bremer A spendere 30 milioni Che sono tanti Ma per me Oggi prendi Bremer a 30 Lo hai a vendere domani Lo vendi a 40 Cioè Bremer praticamente È una plusvalenza Che si disegna da sola Anche Kim potrebbe esserlo Perché poi non è vecchio Anzi è molto giovane Però Bremer ragazzi Te lo danno a quella cifra Perché Cairo vuole venderlo Quindi se tu vai là E gli presenti il progetto Napoli Gli dici Ci stiamo ringiovanendo Facciamo la Champions Tu sarai il nostro Koulibaly Dice De Laurenti Come io sono i loro Cavani Vabbè a parte le cazzate Ci sta Che accetti Di venire a giocare al Napoli Però questo doveva essere Secondo me Il progetto Napoli In questa stagione Perdo Koulibaly Prendo Bremer Perdo Insigne Magari prendo Dybala Poi non ci riesco Però Mi livello verso l'alto Il Napoli si livella Verso il basso Si ringiovanisce Verso il basso E a me sta cosa Un pochino mi spaventa Cioè io da romanista A essere Roma So contento Però Mi spaventa per loro Cioè prima di Kim Hanno preso Ostigard Cioè questo vuol dire Che la difesa del Napoli È fatta Perché la difesa del Napoli C'è E quindi l'anno prossimo Sarà Kim Sarà Quangesus Anzi diciamoli in ordine Di Rachmani Kim Ostigard Quangesus Che personalmente Non mi sembra Sto granché Cioè visto che l'anno scorso Addirittura si parlava E anzi tre mesi fa Si parlava Di tenere Goulibaly Di tenerli vicino Racamani Addirittura di prendere Senesi Per poi inserirlo Quando dovrà partire Goulibaly Adesso Vedere questa difesa Del Napoli Non è che mi faccia pensare A grandi cose Soprattutto perché Il Napoli Perde l'ossatura Poi per quanto riguarda Kim Sono curioso Alla fine E' alto 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 Ma altissimo E' tipo un metro e novanta Quindi sarà un cristone Lì dietro E' coreano C'ha 25 anni Quindi è Abbastanza giovane Non è un ragazzino Ecco questa cosa Un pochino spaventa Perché lui In realtà Ha giocato solo Per il Fenerbace Cioè lui ha giocato in Cina Fu pagato tipo 5 milioni Dallo Yaonbuki in Corea Poi il Fenerbace Lo ha comprato Per 3 milioni Dal Gowan Dalla squadra cinese E l'ha comprato A gennaio dello scorso anno Per 3 milioni Quindi lui La grande carriera L'ha fatta solamente Al Fenerbace E Al Fenerbace Ha fatto 30 partite Ha fatto un golletto Ha giocato abbastanza Era diventato titolare Però non ha fatto nient'altro E non so quanto Possa essere positiva Come cosa Perché tu vai a prendere Un giocatore Che per la panchina Dietro a Coulibaly E Rachmani Sarebbe stato oro Però oggi Chiedo 6 meno Perché arriva verso 2 Coulibaly Sia chiaro Se l'avessero preso così Avrei dato anche 7 Però do 6 meno In progresso Work in progress Però ad oggi Non ce la faccio A dargli di più Cioè capitemi Capitemi Oggi Io Non ce la faccio A dargli di più Questa è la mia opinione Poi magari Ci sta Ci sta Che magari Poi mi stupisca Ci stanno un sacco di cose Cioè Spalletti Lavora benissimo Con tutti i calciatori E Spalletti È bravo È bravo La cosa molto positiva Di Spalletti Spalletti è bravo A valorizzare Praticamente Tutti i talenti che ha O quasi tutti Alcuni no però Quasi tutti i talenti che ha Quindi Kim Kim Minghiae Avrà una grande possibilità Di crescere Con Luciano Spalletti L'avrei visto bene Con una spalla vicino Tipo Coulibaly Però questo Gli ha toccato Personalmente Questo ci tenia Cioè vi tenete Vediamo Magari tra un anno Poi Cioè Quando Tomori è arrivato al Milan Con un riscatto di 30 milioni Io sono prima a dire Ragazzi ma Non dico che Non sia forte Ma veramente pensate che tra un anno Possa valere 30 Era impossibile Invece ne valeva 50 Dopo un anno Quindi magari Kim Arriva al Napoli Va al Napoli E tra un anno vale 40 milioni 30 milioni Già sarebbe tanta tanta roba Però 25 anni Mi sembra un po' tardi Per essere ancora al Fenerbahce Mi sembra un po' tanto Tardi Cioè io capisco Se lo prendi a 21 anni Ma a 25 anni Tu devi essere Almeno in un top 5 campionato O almeno ci devi essere passato Poi magari hai fatto Delle scelte in carriera Magari che ne so Giocavi nel Borussia Dortmund Hai scelto di andare al Fenerbahce Perché ti hanno riempito dei sordi Perché ti piaceva il progetto Eccetera Va bene Ma questo non ci ha mai manco passato Ha fatto Corea Cina E Turchia Non mi lascia ben sperare Non mi lascia Non mi lascia ben sperare Però vi ripeto Io ti fò Roma Quindi per me Ben ben venga Ben che sia così Però io non sono Una persona che Dice sempre bene O sempre male Cioè io ho la mia opinione Questa è la mia opinione Adesso tocca a voi Adesso tocca a voi Dirvi la mia opinione La vostra opinione Non la mia La mia la sapete Se la volete di ari Vedete male Quello che ho detto nel video Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Io vi ringrazio Per aver visto il video Sto studiando anche Dal buco di culo Buone ciao All'allene come sempre Ci vediamo al prossimo Video